E' stato presentato in regione il progetto PIN Pugliesi Innovativi, una misura strutturale da 10 milioni di euro che contraddistinguerà le politiche regionali pugliesi sino al 2020 senza scadenze se non quelle del lavoro su un progetto imprenditoriale innovativo. Presenti il presidente della regione Puglia Michele Emiliano e gli assessori regionali alle politiche giovanili Lafraele Piemontese e allo sviluppo economico Loredana Capone. La Puglia ricomincia dal tentativo di ricostruire una cultura di impresa nelle nuove generazioni nella speranza che questo dia un contributo a tutta la regione e soprattutto ai nostri giovani che in questo modo possono trovare il loro futuro, ha dichiarato il presidente della regione Puglia Michele Emiliano. PIN Pugliesi Innovativi, ha continuato nella spiegazione Emiliano, è ovviamente un'allusione al PIN telefonico che consente l'accesso allo strumento ed è soprattutto un modo per sbloccare il futuro di tutti noi, il futuro dei giovani e la questione politicamente più rilevante all'attenzione della regione Puglia. Questo sistema è modulare, si parte da 10.000 euro, si arriva a 30.000 euro, continua il governatore. La misura si aggancia alle altre politiche di sviluppo di imprese, ai fondi europei e alle iniziative per rafforzare l'industria e la formazione del personale. Possiamo seguire la crescita dell'impresa sino al suo successo definitivo facendola affermare sul mercato.